Prevenire gli incidenti in età pediatrica ed informare sulle tecniche di intervento in caso di pericolo è l'obiettivo del progetto Bimbi Sicuri, promosso da Salvamento Academy e dal Centro SR Ravenna con il patrocinio del Comune. L'iniziativa presentata nella sala giunta di Palazzo San Giacomo vuole essere un'opportunità per insegnanti, genitori, personale scolastico e delle mense che saranno coinvolti in un percorso formativo gratuito al termine del quale sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Noi intendiamo Bimbi Sicuri la consapevolezza da parte del genitore di sapere effettuare le prime manovre di disostruzione pediatrica, quindi questo è il nostro obiettivo primario, rendere tutti in condizioni di salvare una vita umana più che mai la vita di un bambino. Sulle manovre di disostruzione noi siamo impegnati già da molti anni, abbiamo organizzato la formazione completa negli anni passati per le scuole comunali, maestre e operatori di asilinido. Oggi grazie a Salvamento Academy che ci offre questa collaborazione realizziamo tre momenti formativi, ma sono un inizio certamente non la conclusione, per non soltanto le maestre, non soltanto gli insegnanti, ma anche le mamme, le nonne e tutti coloro che all'interno dei territori sentano la necessità di avere qualche informazione in più su come salvaguardare i propri bambini, la salute dei propri bambini dagli incidenti. Gli incontri si terranno nei giorni 27 aprile presso l'Istituto Comprensivo Cuoco Schipa e il 18 e 25 maggio al terzo circolo didattico di Amicis. Bello che ancora una volta la comunità scolastica risponda prontamente a questa esigenza di formazione perché abbiamo avuto moltissime adessioni ed è molto bello che con il progetto Bimbi Sicuri Salvamento Academy si metta a disposizione delle scuole gratuitamente.